in testa alla side B. Inside A, l'evento di questa sera è il sorpasso nuovamente dell'Inter ai danni del Milan, anche qui l'Inter arriva al quarto posto e il Milan ritorna al quinto, quindi 43-41. Nonostante tutta questa grande euforia, devi disturbare anche adesso. Cosa ha fatto? Chi? Tu. Tu chi? Tu. Io. Questo applaude gli interisti. Io? Io. Ah, ecco. Questo applauso all'Inter. Sono amico personale di Piacentini, ma poi personale, ma non perché... Ah, ecco, non ti prendi distanza. Ah, perché ci stanno simpatici. Nonostante l'evento di questa sera... Non c'è nessuna affinità elettiva tra te e Piacentini. Ma neanche tra noi due e te, guarda, neanche tra noi due e te, c'è una difesa abissaria. Ci devi... Allora, nonostante l'evento di questa sera, del sorpasso dell'Inter, dei danni del Milan, vi faccio notare che la Lazio rimane a 44. Piace. La Napoli rimane a 50 al secondo posto. Noi, da qua sopra, già facciamo, caro Fabio, difficoltà a vedere la Lazio. Sì, perché c'è una nebbia. che è a 44. Facciamo difficoltà a vedere il Napoli che ha 50. Ma figurati quelli del Gran Ducato, dove siete Inter e Milan? Non vi vediamo da quassù. 55, sempre Juventus, anche per questa settimana. È da 24 settimane così. So che è noioso, è rosicata, ma è così. E prima o poi, come una carabina, qualcuno ti abbatterà quando sei lì in alto. Grazie, due minuti nella rete.